Voglio iniziare questo video facendovi vedere una cosa molto bella Dunque, vedete quella presa lì? Quella presa è collegata a questa fantastica luce E' lì, lì sotto Vedete lì sotto? C'è un'altra presa Ed è collegata anche questa ad una luce Fantastico Bene, queste sono le uniche due prese che ho E quello lì, quella merda lì Quella, proprio questa qua Lo sapete a che cazzo è attaccata? Ve lo faccio vedere subito Esatto Non è attaccata a un cazzo di niente Quindi se in questo video mi vedete accasciato là sotto Morto, che prego tanti di diverse categorie Sapete il perché Allora, dato che l'episodio precedente vi è piaciuto tanto Oggi andremo a rivedere, tra l'altro mi è spuntato Ciccio su Instagram Dato che vi è piaciuto tanto, oggi andremo a vedere gli insulti su Instagram Chiudi il canale, fai un favore a tutti Testa di cazzo non mi insultare me contro... Di nuovo Ma non potete capire quanti, in quanti mi rompono i coglioni per me contro te Ma lo volete capire che a me e me contro te non mi stanno sul cazzo? Ma l'ho via dalla registrazione, vero? No Siiii! Lo volete capire che non me ne frega un cazzo di me contro te? Che non li odio Anzi, anzi, facciamo una cosa Per dimostrarvi che io vi voglio bene E voglio bene anche me contro te Ora andiamo ad ascoltarci Chi rei rei? Dio! Visto? Come vedete non odio mai contro te, cioè fanno le ragazze belle. No, 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 basta, ne ho ascoltata già una, non ne ascolto un'altra, ne ho ascoltata abbondantemente, ho apprezzato, ho degustato le loro doti canore, non vogliono, no, basta. Muori, ma lo sai che il tuo desiderio si sta magicamente avverando? A furia di stare qui, in questo forno a microonde, mi sa che il tuo desiderio diventerà realtà molto presto. Hai 30 anni e fai video sui ba- basta, vi prego basta, ma io mi devo prendere la carta d'identità. No, prendiamo la mia carta d'identità, andiamo a prendere, dove cazzo sta, dov'è? Allora, tento, guai, allora, questa è la mia carta d'identità. 14, 12 del 99, ho 18 anni, per favore, basta, non ho 30 anni, la sto affrontando le prime crisi. Non ce la faccio più. Stai attento, Jolly, il team Trot non ha paura, ti facciamo a pezzettini, a te, tuo papà e pure tua mamma. No, è mio fratello lo lasciate vivo, ma prendetelo quel bastardo. E sentite, vaffanculo, ho bisogno di aria, a ossigeno. Quanto si sta bene qua sotto, c'è un fresco che mamma mia.